Semplicemente dal 15 di febbraio fino al 30 di marzo si potrà allestire la propria vetrina, chi lo vorrà, tema Capitale 24, e poi una giuria valuterà le foto arrivate, le segnalazioni arrivate di chi sarà iscritto e ci saranno dei premi legati ai temi della città, un cesto premio, tra cui anche ad esempio i biglietti del Festival Festival. Al di là del premio è chiaro che è un modo per fare percepire la partecipazione della città a partire dall'attività economica, nell'originalità che anche i quartieri possono rappresentare, quindi dalla ferramenta alla parrucchiera all'officina, allo studio di architetti all'alimentari, possono essere chiaramente protagonisti di un racconto diverso anche per tipologia, ma che dà l'idea al cittadino, al cittadino del quartiere, al passante e anche ai visitatori, perché non dimentichiamo che ad esempio il Capitale della Cultura si porta dietro tantissime attività culturali nei quartieri che faranno circuitare pubblico, anche addirittura un artista in residenza in ogni quartiere per produrre un'opera che anche questo genererà curiosità in pubblico, quindi è anche un modo per accogliere turisti e visitatori da parte dei singoli quartieri attraverso il contributo caldo di un'accoglienza di una vetrina a tema. Questa iniziativa ci fa veramente piacere a noi Presidenti del quartiere perché è una maniera per estendere il Capitale della Cultura e in realtà farla entrare all'interno dei quartieri. Sono convinto che tanti esercenti dei nostri quartieri saranno molto molto felici di aderire in quanto sarà una vetrina appunto per gli esercenti, ma allo stesso tempo una vetrina per tutta la città. Il concorso si manifesta con dei premi carini, simpatici e ritengo che chi ha voglia di mettersi in gioco sicuramente farà una bellissima cosa per la città. Nel sito del comune di Pesaro già trovano per poter partecipare con la vetrina più bella di Pesaro Capitale della Cultura ci sarà una mail dove devono scrivere e dopo che hanno allestito la propria vetrina potranno mandare una fotografia. Ci sarà una commissione che poi girerà le vetrine che hanno dato l'adesione e dentro il 20 di aprile faremo la premiazione.